Lo scorso luglio aveva asseminato il panico davanti ai giardini dell'arena e al monumento Memoria e Luce, commemorativo dell'11 settembre, urlando all'Akbar e minacciando due passanti con un coltello. Un pakistano di 34 anni è stato così rimpatriato ieri. La sua posizione dopo quel grave episodio era stata riconsiderata dall'ufficio immigrazione della questura di Padova ed è arrivata la decisione di espellerlo, assieme ad altri dieci gambiani e quattro pakistani, tutti ritenuti persone potenzialmente pericolose per la sicurezza. A rendere noto il provvedimento è stato il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Il 34 anni è pakistano, lo scorso luglio, in evidente stato di alterazione, stava camminando nell'acqua bassa del piovego vicino al monumento, in ricordo delle vittime del World Trade Center. Alla vista dei poliziotti aveva gettato in acqua un coltello, poi aveva raccolto una bottiglia di vetro da terra e aveva minacciato gli agenti. In tasca aveva un altro coltello. La polizia era intervenuta perché lo straniero poco prima, ineggiando da là e brandendo un coltello, aveva minacciato due cittadini che stavano passeggiando.